È possibile prendere decisioni migliori? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio parlare di decisioni. Voglio farlo cominciando con due frasi che a me piacciono molto e non ho saputo scegliere tra quale delle due e volevo sceglierne una, ma poi, insomma, è un po' assurdo che questo video sulle decisioni parta con questa prima indecisione. Però lasciatemi raccontare le cose e poi magari alla fine giudicherete se effettivamente è stata una mancanza di presa di una decisione oppure no. Allora, sono due le frasi, come vi dicevo. Puoi fare qualsiasi cosa nella vita, ma non puoi fare tutto. E la seconda frase è di Eisenhower, probabilmente l'avrete sentita. Ciò che è importante è raramente urgente. Ciò che è urgente è raramente importante. Allora, che cosa vuol dire? Secondo me dietro queste due frasi ci sono veramente tantissimi significati che oggi voglio qui portarvi per cercare di arrivare ad una conclusione che è quella di... è possibile prendere effettivamente decisioni migliori. Nella vita noi siamo portati a prendere decisioni in qualsiasi momento, forse non ce ne accorgiamo, forse alcuni di voi possono pensare ma io sono un tipo davvero indeciso, un tipo che non riesce mai a decidersi, ha sempre troppe opzioni sul tavolo, scelgo una cosa e poi me ne pento e se poi te ne penti... insomma, la verità è che nella nostra vita noi quotidianamente, da quando ci alziamo la mattina, quando andiamo a letto la sera, prendiamo delle decisioni. Il fatto è che, sapete, il cervello umano funziona in due modalità per quanto riguarda il muscolo della motivazione. Io lo chiamo muscolo perché secondo me prendere decisioni è effettivamente un muscolo. Cioè, più ne prendi e più sei abituato a prenderle e più per te sarà facile scegliere, facile scegliere quello che poi è bene per te, no? Perché questa poi è una questione sicuramente da tenere in considerazione. Però vi stavo dicendo come funziona il cervello. Il cervello funziona con due tipi di pensieri. Un pensiero che noi lo definiamo più un istinto, no? Che è quel pensiero veloce, viene anche definito. Cioè, è un pensiero che noi prendiamo senza nemmeno stare troppo a pensarci. Noi sappiamo che se mettiamo la mano sul fuoco, se prendiamo una pentola dopo che l'acqua ha bollito, quella pentola probabilmente è calda. Lo sappiamo, non dobbiamo nemmeno stare a pensare e non dobbiamo prendere una decisione. Che faccio? Prendo le presine per prendere questa pentola bollente o la prendo con le mani, no? Fammi decidere un attimo, fammi ci pensare... No, è immediato e queste decisioni fanno parte del pensiero veloce. Il problema di questo pensiero veloce è che a volte ci fa prendere le decisioni sbagliate. Se da una parte ci protegge perché non potremo stare ogni cinque secondi a prendere delle decisioni, il nostro cervello sarebbe estremamente affaticato, andrebbe in overload di dati da processare, no? È per questo che viene creato questo istinto che automaticamente ci dice quello che dobbiamo fare. Ma quando usiamo questo nostro istinto per prendere invece decisioni più importanti, decisioni magari di medio-lungo termine, allora tendiamo a fare degli errori. Adesso vi spiego anche perché. Fatemi dire però qual è il secondo tipo di pensiero. Il pensiero logico. Il pensiero logico, che è anche un pensiero più lento, scatta quando ci troviamo in una situazione di difficoltà, in una situazione difficile, fondamentalmente in una situazione che per noi è nuova, per noi e per il nostro cervello è nuova. E quindi deve essere elaborata, deve essere pensata, ecco perché è pensiero logico, perché dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo, come dobbiamo reagire, quali sono le opzioni che ho sul tavolo e quale di queste opzioni devo scegliere. Ecco, in questo processo ragazzi, nel processo del pensare, puoi prendere delle decisioni, dobbiamo capire che ci sono dei pensieri o dei metapensieri, come vengono chiamati, che possono aiutarci o viceversa possono invece renderci più difficile una decisione. E oggi proprio di questo voglio parlare, di questi metamodelli, metapensieri, se poi leggerete libri sull'argomento e ce ne sono di libri veramente affascinanti, vi consiglio di esplorarla questa materia, perché è importante innanzitutto, ragazzi, ripeto, dalle nostre decisioni dipende fondamentalmente la nostra vita. Io oggi vi accendo solo qualche lampadina, come spesso faccio, vi do un po' il trampolino di lancio, poi per allanciarvi ci dovete pensare voi, ma voglio darvi alcuni punti su cui riflettere. E dirvi che fondamentalmente uno degli errori, i due principali errori che si fanno nel prendere delle decisioni riguardano la perfezione, che la perfezione è nemica del bene, e il cosiddetto paradosso della scelta. Mi spiego meglio. La perfezione nemica del bene è quella sensazione che sicuramente, è quel contesto, quello scenario che sicuramente avrete provato nella vita, ma anche nel trading e negli investimenti andando più sul verticale, e cioè quello che vi spinge a cercare di acquisire più informazioni possibili per prendere quella scelta, no? È solo che poi si va in stallo, come dico io, cioè si rimane bloccati, perché più informazioni si cercano e più si capisce che bisogna avere informazioni, e quindi la decisione viene sempre rimandata, viene sempre rimandata perché si aspetta il momento perfetto, il momento in cui effettivamente tutti quanti gli astri si sono incrociati e ho reperito tutte quelle che secondo me sono le informazioni giuste, ah, finalmente posso prendere la mia decisione. E questo, ragazzi, è un grande errore, perché magari nel frattempo sono passate settimane, sono passati mesi, magari sono passati anche anni, e a volte noi usiamo questo proprio come scusa, cioè quella di aspettare che tutto sia perfetto per prendere una decisione. Le decisioni non funzionano così, le decisioni sì, vanno ragionate, ma dobbiamo anche cercare di capire che un po' utilizzando, io dico sempre nel mondo del trading e degli investimenti, perché è facile bloccarsi nel mondo degli investimenti su questo, devo investire su un'azienda, devo cominciare a reperire tutte le informazioni possibili su questa azienda prima di metterla in portafoglio, e allora comincio a studiare gli economics, comincio a studiare, vado a vedere il management di quell'azienda, e poi scopro, vado a vedere quelle che sono, quella che è la roadmap, la timeline, tutti i prodotti, tutti i servizi, vado a studiare bene, poi mi servono, però mi rendo conto che mi servono altre informazioni, e poi mi dico, ma aspettiamo il prossimo quarter, vediamo i prossimi earnings, e vediamo che cosa succede, fatto sta che perdo il momento, magari più propizio per entrare, e sfuma l'opportunità. Quindi, quello che dico sempre io, a un certo punto bisogna posare il rasoio di Occam, che vuol dire cercare comunque di semplificare la scena, acquisire le informazioni, ma acquisire il numero di informazioni giuste, che ci servono semplicemente a elaborare quello scenario, e a reagire, prendere una decisione, e reagire velocemente, e poi portarla velocemente anche a compimento, questo è un altro aspetto. E vi dico, a me aiuta molto spesso quando prendo decisioni, riflettere su questo punto, parlando di perfezione, e ovvero su quanto la decisione che sto prendendo è reversibile o irreversibile, perché molte volte ci troviamo in scenari in cui siamo bloccati, non riusciamo a prendere una decisione, ma poi ci rendiamo conto che quella decisione non è così irreversibile, per cui se prendo e poi sbaglio, cavolo, me ne pentirò per tutta la vita. e secondo me avere sul tavolo questa possibilità, cioè la possibilità di capire, se questa decisione che sto prendendo in qualche modo, mi dà la possibilità di tornare indietro, senza cambiare drasticamente, o subire cambiamenti nel mio stile di vita, senza danneggiare nessuno che mi sta intorno, me stesso, e nessuno delle persone care che mi stanno intorno, beh, è più facile prendere una decisione, no? Quindi il mio consiglio su questo è ragionate sulla reversibilità o irreversibilità di una decisione, vi renderete conto che la maggior parte delle decisioni che prendete sono reversibili, e quindi, diciamo, l'aspetto della perfezione, è un aspetto a cui bisogna fare attenzione. Il secondo aspetto, vi ho detto, è il cosiddetto paradosso della scelta, ed avviene quando abbiamo troppe opzioni sul tavolo, quindi, in questo caso, troppe possibilità, no? E quindi, cavolo, allora, sì, effettivamente, torno sull'esempio del trading e degli investimenti, no? Posso investire su quell'azienda, però, effettivamente ci sono anche tutte queste altre aziende che fanno parte di quel settore, no? Quindi, vabbè, lo sai che faccio? Vado a studiare anche le altre aziende, ma forse non sono più così deciso a investire in quella, perché ho trovato quest'altra azienda, ho letto un articolo di cui, oppure ho guardato gli economics, e sta crescendo di più, potenzialmente, dell'altra azienda, e quindi le troppe possibilità ci frizzano, ci fermano, ci bloccano di nuovo, e qui quello che, il mio consiglio, il consiglio che posso darvi, e che a me aiuta, almeno, è quello di cercare di suddividere la decisione in la sommatoria di decisioni più piccole, perché a volte abbiamo, davanti, ci stiamo, stiamo cercando di prendere una decisione per un, diciamo, per un mega, un mega progetto, per qualcosa che è grande nella nostra, nella nostra vita, e da quella cosa poi scaturiranno, ne scaturiranno altre, no? E quindi è difficile, effettivamente, siamo lì molto timorosi, vogliamo pensarneci di più, diciamo, ci penso un altro weekend, adesso questa settimana ci penso, e cerchiamo di prendere tempo. Invece, una cosa che a me aiuta molto è quella di spacchettare quella decisione in decisioni più piccole. Vi faccio un esempio con, sapete, tra poco lancerò un progetto, lo stiamo sviluppando, è arrivato, siamo proprio nella fase di debug finale, almeno con i primi moduli, e ovviamente ho tante domande, no? Abbiamo tante assumption che abbiamo fatto, questo prodotto verrà utilizzato, qual è il target che lo utilizzerà, quali sono le problematiche che va a risolvere, come si posiziona, però tutte queste assumption, in realtà, diciamo, sono effettivamente, coprono un'area molto grande di definizione del perimetro di questo prodotto, e piuttosto se decidere, faccio uscire questo megaprodotto, non lo faccio uscire, preferisco ragionare sui singoli moduli, e quindi la mia idea è quella di, quello che stiamo facendo, di creare un MVP, un Minimum Viable Product, quindi un prodotto che è più piccolo del prodotto completo, e testarlo immediatamente, facendolo usare al target di riferimento. In questo modo, se ci vengono date le conferme, andremo avanti col secondo pezzo, e il secondo pezzo lo faremo testare, magari scopriamo che non è così utile come ci aspettavamo, e scopriamo nel processo che è utile qualcos'altro, invece, e così sviluppiamo qualcos'altro, facciamo un pivot, facciamo una deviazione, si dice in gergo tecnico. Quindi, vedete, spacchettando le decisioni, prendendo decisioni più piccole, è assolutamente più facile, e aspettando, la sommatoria di queste decisioni, poi, saranno, vi daranno la risultante della decisione più grande, ma l'avrete presa in maniera diversa, senza, nemmeno tutta quest'ansia, questa paura di pentirvene, o poi di sbagliare. Quindi, questa è un'altra cosa che mi aiuta molto quando devo prendere delle decisioni. Altri due concetti su quali voglio farvi riflettere sono il cosiddetto potere di mercato e la distorsione del presente. La distorsione del presente è uno dei modelli che mi piace di più, ed è una delle, secondo me, cose più sopravvalutate dall'essere umano. Ovvero, che cosa vuol dire? Che l'essere umano, fondamentalmente, è portato a decidere e prendere delle decisioni basandole sul, sulla, su qualcosa che è di breve termine, sul successo di breve termine, su qualcosa che lo rende felice nel breve termine e sottovaluta quello che invece può ottenere nel lungo termine. E questo sugli investimenti, sapete, è proprio un classico, no? Si pensa molto di più a cercare di fare operazioni, di aprire operazioni sul trading o di investire in azienda per cercare di diventare ricchi e fare i soldi nel più breve tempo possibile. Così facendo, il risultato è che non si diventa ricchi, fondamentalmente uno, si mette a rischio, ad enorme rischio il capitale che tendenzialmente lo si perde, ma soprattutto non si dà il tempo alle strategie, al vostro portafoglio di potersi esprimere e veramente farvi diventare ricco ma nel lungo termine. Quindi, la distorsione del presente è veramente una tra le cose più pericolose che dobbiamo affrontare quando dobbiamo cercare di prendere delle decisioni. Concentrarci sui benefici di lungo termine e non su quello che otterrò domani. Questo è un concetto importante che davvero spesso ci fa prendere decisioni sbagliatissime e ci fa perdere di vista il nostro vero obiettivo, la nostra vera vision nella vita che vogliamo avere, che vogliamo ottenere perché poi si riduce tutto a quello. Il potere di mercato che cos'è? Il cosiddetto rappresenta il cerchio delle competenze. Anche Warren Buffett se avete letto i suoi libri ne parla molto, no? E dice voi dovete cercare di capire in maniera anche molto umile e molto sincera quali sono le cose su cui le competenze su cui effettivamente voi avete un vantaggio il potere di mercato è questo, no? Un'azienda quando ha potere di mercato vuol dire che ha rispetto ai suoi competitor ha dei vantaggi che deve necessariamente far valere, no? Pensate ad Amazon pensate a Google poi ci sono addirittura aziende che questi vantaggi li fanno diventare così grandi rispetto ai competitor che creano un monopolio e quindi di Amazon c'è solo Amazon motori di ricerca Google c'è solo Google praticamente non ha competitor Google e così via vale la stessa cosa con le proprie competenze capire le competenze che si hanno che vi rendono diverso o che vi rendono sulle quali potete fare leva perché riuscite meglio a fare qualcosa rispetto a ad un vostro collega rispetto al vostro competitor nella vita è fondamentale sapere perché vi sto parlando del potere di mercato e della cerchia di competenze perché saperle conoscerle vi aiuterà a prendere decisioni sicuramente migliori perché sapete come prendere la decisione in base a quello su cui che sapete far meglio su cui riuscite meglio un'ultima considerazione ragazzi la faccio sul tempo che sapete per me è sempre estremamente importante il tempo una decisione si ricollega alla distruzione del presente di cui parlavo prima una decisione che prendiamo oggi deve essere sempre valutata con un orizzonte temporale più ampio e fatemi fare un esempio veramente banale e becero perché mi capitava in realtà di pensarci qualche giorno fa parlando con un amico immaginate due oggetti che dovete comprare un cellulare uno smartphone e un materasso ok un materasso per casa per dormire ovviamente allora sul cellulare sono sicuro che magari siamo più disposti a spendere cifre importanti perché oggi un cellulare ragazzi di ultima generazione può costare 1000 euro 1200 euro 1500 euro se si va verso Apple e quindi insomma parliamo di una cifra ampia e sono sicuro che molti di voi per un materasso non sono disposti a spendere quella cifra però se ragionate sul sul valore temporale di quell'oggetto le cose cambiano totalmente mi spiego meglio quante ore dedichiamo quante ore passiamo sopra il materasso secondo voi ma vi dico ve lo dico subito io almeno un terzo della nostra vita ok 24 ore diciamo che 8 ore tra dormire mettersi un po' a letto eccetera ci stiamo quindi un terzo della nostra vita la passiamo sul materasso io spero che nessuno di voi passi un terzo della vita con lo smartphone e questo mi dovrebbe dire mi dovrebbe far prendere questa decisione in maniera più semplice più logica e razionale ma se io spendo 1500 euro per comprarmi uno smartphone che magari uso tre ore al giorno quattro ore al giorno diciamo circa la metà delle ore che spendo sul materasso per dormire beh allora sul materasso dovrei spendere circa il doppio però per noi è impensabile spendere se ci pensate bene spendere tutta quella cifra per un materasso che magari è ergonomico comodissimo che magari ci aumenta la qualità del sonno che il giorno dopo avendo riposato bene ci fa stare meglio e ci fa essere più concentrati e nel lungo periodo ottenere di più no lì magari su quella cosa su quell'oggetto spendiamo 300 euro 200 euro 400 euro quindi cerchiamo di risparmiare questa per me è una cosa molto importante ogni volta che sto prendendo una decisione la prendo cercando di spalmare il valore che ottengo i benefici che ottengo da quella decisione nel tempo che utilizzo quel servizio quell'oggetto quella cosa è come quando si partecipa ad un corso si legge un libro si impara una nuova cosa nessuno vorrebbe ma se io vi dicessi ma sai fai medicina studia medicina per fare il chirurgo e tu fai 7 anni 10 anni di studi però poi l'undicesimo anno ti rendi conto che vuoi fare un'altra cosa prendi e fai un'altra cosa prendi una decisione diversa praticamente hai buttato 10 anni della tua vita quindi magari se ti fossi fermato prima a ragionare bene che cosa volevi e che cosa volevi ottenere avresti preso una decisione migliore ragazzi un consiglio vi do c'è una sempre per prendere decisioni migliori c'è una griglia si chiama la griglia di Eisenhower e è stata appunto se vi ricordate l'inizio del mio video quando vi ho detto ciò che è importante è raramente urgente ciò che è urgente è raramente importante l'ha detto Eisenhower e da questa frase e dal suo approccio proprio alle decisioni è nata quella che si chiama la griglia di Eisenhower che è una griglia molto semplice e magari adesso guardate ve la passo qua sullo schermo ma la trovate cercandola su internet è una griglia che vi dice fondamentalmente vi permette di mettere in relazione l'importanza di una decisione con l'urgenza si divide in 4 quadranti alta-bassa quindi alta-urgenza alta-urgenza bassa-urgenza bassa-importanza alta-importanza nella parte in alto a sinistra avrete le cose più urgenti e importanti che sono da fare subito nella parte in alto a destra avrete le cose importanti ma non urgenti e quindi cose che possono essere pianificate nella parte in basso a sinistra l'urgente e il non importante sono le cose che potreste decidere di delegare invece che far voi nell'ultima parte non urgente non importante ci sono le cose che possono tranquillamente essere saltate perché non probabilmente saranno utili agli obiettivi che volete raggiungere ragazzi credo che quella delle decisioni è veramente una questione importante probabilmente ci ritornerò anche a preparare altri video ma oggi volevo qua fare il primo e fatemi sapere con un like se vi è stato utile se vi ha dato spunti utili o se avete anche altri suggerimenti oggi ho voluto un po' parlare di metamodelli ma l'ho voluto fare in maniera non troppo complessa ma per cercare di rendere l'argomento comprensibile e interessante a tutti il mio consiglio è andate ad approfondire perché è veramente possibile attraverso i nostri pensieri e i modelli che abbiamo nella nostra testa migliorare la qualità della nostra vita che vuol dire migliorare la qualità delle decisioni che prendiamo ragazzi grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao ciao